La responsabilità insostenibile questa, vero? Altissima, altissima perché allora abbiamo pochissimo tempo Ok, grazie Va bene, va Fantastica e tu lo guarda il base Devo guardare in camera E ora proveremo il migliore caffè Qual è il suo posto nella società? Sono una studente, quindi sono il futuro della società Oggi qui a Dorio Center intervisteremo dei passanti Che succede? Che succede? Non so, si va avanti, si fa indietro, si fa destra, si fa sinistra D'accordo, va bene, grazie Arrivederci In che senso? Mi scusi ma lei?